Restano in carcere, nelle celle di Villa Fastigi, i tre spacciatori, un corriere pesarese e due grossisti albanesi, arrestati venedì scorso in flagranza di reato per spaccio. Questa mattina alle 9.30 si è tenuta l'udienza di convalida, presieduta dal giudice Giacomo Gasparini, nella casa circondariale dove erano stati portati su disposizione del PM Valeria Cigliola e dove resteranno in attesa del processo. I carabinieri di Fano, da dove era partita l'indagine dopo mesi di pesimenti, giovedì hanno deciso di intervenire dopo che il trio era di ritorno da un grosso carico in Romagna a bordo di due auto, braccandoli e costringendoli in una fuga roccambolesca nelle strade del centro di Pesaro, terminata con la loro cattura una volta che si sono imbottigliati in un semaforo rosso. Con questa operazione i carabinieri hanno stroncato un importante canale di approvvigionamento dello stupefacente per la piazza pesarese, oltre al sequestro di due etti di cocaina purissima del valore stimato in 10.000 euro e 2.000 euro in contanti, oltre a 5 preziosissimi cellulari con le agende fitte di contatti che gli esperti dell'arma stanno ora setacciando per ricostruire la vasta rete di clientela che gravitava attorno all'organizzazione. Un fenomeno, quella della diffusione dell'eroina come sostanza dopante, che sta prendendo dimensioni preoccupanti, come ha sottolineato il comandante della compagnia di Fano, Alfonso Falcucci, perché la cocaina rispetto al passato, da sostanza ad uso e consumo di una ristretta cerchia di persone benestanti, dati gli elevati costi del passato, ora con l'emissione sul mercato della droga di elevati quantitativi e gli enormi margini di profitto, sta diventando sempre più diffusa e pervasiva, con una reale sottostima del pericolo da parte degli assuntori abituali di stupefacenti.